C'erano una volta due re, Leonte e Polissene. Leonte era il sovrano della Sicilia, Polissene quello della Bohemia. Ed erano amici, amici da tanto tempo, amici fin da quando erano bambini. Ogni volta che Polissene andava a trovare a Leonte era una grande gioia. E ogni volta che Polissene doveva andarsene via, era una gran tristezza. E quella volta, più di ogni altra, Leonte non voleva che Polissene se ne andasse via così presto. Voleva che restasse, che vivessero ancora delle belle giornate insieme. Perciò convince la moglie, la regina, Ermione, a convincere Polissene a restare tutto qualche giorno in più, un pochino di più. E Ermione acconsentì. E cominciò allora a parlarci, a convincerlo, con le parole, con i sorrisi. Insomma, Polissene, un po' grato all'amico, è un po' lusingato da Ermione e decise di restare. Però, Leonte, man a mano che Ermione cercava, convinceva sempre di più Polissene a restare. Sentì qualcosa di strano. Vedeva Ermione troppo vicina. Polissene troppo sorridente. I due, troppo, troppo intimi. No. Ermione era una buona moglie. Ma Polissene era un uomo come lui. Ed era bello, forse più bello di lui. Chissà che cosa si dicevano, in realtà. Chissà cosa significavano quegli sguardi. E poi, e poi c'era la questione che, ormai era da tempo che Polissene e Leonte si trovavano sempre. E entrambi avevano dei figli. Ed era strano che Mamilio, il figlio di Leonte, non assomigliasse così. Cioè, dicevano tutti che era il ritratto sputato del padre. Però il padre guardò Mamilio. E poi guardò Polissene. E quella, quel fischio, quel fischio nelle orecchie divenne sempre, sempre, sempre più forte. Fino a quando il fischio non divenne un velo che copriva gli occhi e ingannava qualsiasi cosa. Leonte fu ingannato da qualsiasi cosa gli fosse attorno. Fino al punto tale che... Arrivò... A esserne sicuro, al cento per cento. Senza prove. Senza motivazione. Senza... Una giustificazione. Non c'era altra soluzione. Non c'era altra spiegazione che Ermione e Polissene erano amanti. Doveva sbarazzarsi di Polissene. Non poteva permettergli di circuire la sua regina e di portargli la via. Era sua! Perciò chiamò Camillo, uno dei suoi più fidati. E gli ordinò di andare a ucciderlo Polissene. Camillo cercò di mandarlo alla regione. Maestà, ma con quali prove? Con quali accuse? Con quali motivazioni? È assurdo quello che fate! Zitto! La mia parola è legge. Io sono il re. E tu devi uccidere Polissene. Camillo non avrebbe mai potuto uccidere. Quello che era sempre stato il migliore amico del re. Perciò andò da Polissene. E gli raccontò tutto. Il re vi vuole uccidere per qualcosa che non avete fatto. Voi non siete l'amante di Ermione. Lo sappiamo tutti che Ermione è fedele al re. Ma il re è cieco ormai. È cieco e sordo. Vi prego di allontanarvi immediatamente da quest'isola. Di andarvene immediatamente da quest'isola. Per favore. Per favore, mio re. E Polissene se ne andò. Ma la fuga di Polissene fu vista da Leonte con la stessa colpevolezza con cui l'aveva accusato. Eccola la prova. Eccola. Lo sapeva. Lo aveva sempre saputo che Polissene era un codardo. Lo aveva sempre saputo che lui in realtà lui è Ermione. Oltretutto Ermione è incinta. Tutti a dire che il figlio è suo. Non è vero. Il figlio di Polissene. Perciò la mandò immediatamente a chiamare. Fece arrestare addirittura il suo stesso figlio. E lo sbatté in cella. E poi chiamò Ermione. Gli disse. Dimmi la verità. Dimmelo. È vero, vero. Si è la sua amante. Vi siete trovati insieme. Maestà. No. Di la verità. Ho detto di no. È la verità. Io amo solo voi. I miei figli sono i vostri figli. Mi avete chiesto voi di parlare con Polissene. E io ho parlato. E solo ho parlato. E se voi non mi credete. Chiedete al Dio Apollo. Chiedete al nostro Dio. Chiamate l'oracolo e ditegli di parlare con Apollo del Dio. E lui testimonierà la mia innocenza. Leonte la sbatte immediatamente in carcere. E poi chiamò l'oracolo. Per dimostrare che Apollo era dalla sua parte. Ma nel frattempo. Il pancione della ricina crepe sempre di più. E partorì in carcere. E partorì una bambina. La baglia la portò al re. Dicendogli. Guardate. Vostra figlia. Sangue del vostro sangue. Non è mia. Bruciatela. Uccidetela. E subito i consiglieri a dire. Maestà. È da pazzi. Non potete farlo. È vostra figlia. No. Via tutto. Via tutto. Bruciatela. Uccidetela. Illiminatela. E i consiglieri del re portarono via la bambina. Ma non la uccisero. Né la bruciarono. Presero una nave. E uno di loro trasportò la bambina lontano da quel mondo di follia. Ma non riuscì. Non riuscì ad allontanarsi tanto. Arrivò nei territori della Bohemia. Ma è lì. Non poteva andare oltre. Perché la fame, la sete, la stanchezza e gli animali selvaggi lo uccisero. E fu costretto dagli eventi ad abbandonare la bambina. che però fu fortunata. Dei pastori, una coppia di pastori la raccolsero e la portarono con sé per farla crescere. Nel frattempo. Leonte aspettò. E aspettò. Fino a quando l'oracolo di Delfi arrivò con le parole di Apollo. Erano tutti presenti nella grande sala del re. Sala del trono. Il re, i consiglieri e la colpevole, la regina. Leonte la guardò con disprezzo. E poi fece immediatamente dire quello che Apollo aveva detto. E Apollo disse che la regina era innocente. E che se il re non si fosse immediatamente fermato dalla sua sete di vendetta non ci sarebbero stati eredi né gioia nel regno della Sicilia. È una menzogna! È una menzogna! La regina è colpevole! La regina è colpevole! E mentre Leonte continuò a gridare a un certo punto uno dei soldati corse dentro la sala del trono e gridò Il principe! È morto! È morto dal dolore per quello che sta accadendo. Immediatamente la corte andò fuori di testa e impazzì. È un segno! È il dio Apollo! Il dio Apollo sta già intervenendo! Il nostro regno è andato perduto! Ed Ermione, in quel momento, la regina della Sicilia, svenne. Crollò a terra, più bianca. Che mai? Che cosa aveva fatto? Che cosa aveva fatto? Il velo si sollevò dai suoi occhi, il fischio nelle sue orecchie si spense e tutto ciò che rimase era il corpo senza vita della regina davanti a lui e il vuoto nelle mani. E il vuoto nelle mani. La regina fu portata via. Ci furono i funerali, lui non non partecipò. che cosa aveva fatto? Non si riuscì a perdonare. Non si riuscì mai a perdonare per quello che aveva fatto e passarono gli anni. Passarono grandi, lunghi anni in solitudine. Mentre la neve, ogni inverno cadeva sempre più fitta e bianca. Quasi a voler coprire il cuore distrutto del re. era stato accecato dalla sua stessa gelosia. E tramite quella gelosia aveva perso qualsiasi cosa. E ogni inverno sembrava essere sempre più freddo. Ogni inverno sembrava essere sempre più bianco. E poi? Poi, come tutti gli inverni, passano. E arriva la primavera. E quella primavera era più colorata del solito. Dal mare che si vedeva dal palazzo arrivò un bastimento. Una nave con grandi vele bianche. Da quella nave scese Florenzio. Florenzio. Il figlio di Polissene. Cosa voleva? Non gli bastava aver perso anche sua moglie. Adesso magari il figlio era arrivato con un bastimento carico di soldati e sarebbe precipitato nel palazzo e l'avrebbero arrestato e che sarebbe successa una guerra e non... No. No. Un messo arrivò e disse Re Leonte Florenzio il re di Polissene vi chiede aiuto. Lui è la sua amata perdita principessa di Libia vi chiedono ospitalità. Ospitalità? E perché? Qual è la motivazione? chiedono ospitalità per sfuggire al padre. A Polissene? Perché? Sembra che i due si vogliano sposare e il padre non accetti il matrimonio. Un'occasione? Poteva chiamare il re Polissene e farlo venire lì e in qualche modo aggiustare la situazione e sarebbero tornati amici. li mandò immediatamente a chiamare. Flore Florezio era bellissimo come tutti i giovani in quell'età e da innamorati era bello e la sua amata Er... Ermione? No. No, 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 no. Fermi. Assomigliava spaventosamente a Ermione ma no, non poteva essere lei. Però la somiglianza era incredibile. Si chiamava Perdita principessa di Libia. Leonte provò a parlarle a chiederle chi era cosa faceva e lei era timida e non gli rispondeva. Florezio era la voce per entrambi. Maestà mio padre non vuole che noi ci sposiamo ma noi ci amiamo e non siamo non siamo così stolti da sposarci soltanto per un capriccio noi ci amiamo davvero vogliamo restare assieme per favore il nostro re ci aiuti e Leonte disse io vi aiuterò ma non posso farlo in segretezza fatemi chiamare vostro padre permettetemi di parlare con lui e io vi prometto vi prometto solennemente che vi aiuterò e una seconda nave arrivò dal mare della Sicilia e arrivò Polissene gli anni erano passati anche per lui il suo aspetto era sempre regale e magnifico ma si vedeva che era invecchiato Leonte al contrario era stato distrutto da tutti quegli inverni e da tutto quel dolore la sua pelle era piena di rughe si guardarono Polissene era ancora arrabbiato si vedeva lontano un miglio ma Leonte non era qui non era qui per quello che era accaduto a Romione era qui per aiutare i due giovani Polissene amico mio so che per te è tuo figlio importante ma sono sicuro che si può risolvere la situazione in fondo è una principessa ma quale principessa Leonte anche a te ti ha mentito è una pastorella è figlia di pastori ho portato i due pastori a testimoniare che lei non ha niente di nobile niente e arrivarono i due pastori tremanti con un piccolo scrigno tra le mani uno scrigno chiuso si inginocchiarono di fronte al re e dissero maestà è vero nostra figlia nostra figlia è una pastorella ma ma non è nostra figlia voglio dire lei effettivamente è una nobile insomma che succede che caos spiegatemi meglio maestà noi abbiamo trovato nostra figlia che era un'orfana era accanto a lei c'era il cadavere di un uomo morto ucciso dalle bestie e dalla fame e c'era lei piccola ancora in fasce con questo scrigno accanto noi l'abbiamo accolta l'abbiamo portata a casa l'abbiamo cresciuta come nostra figlia e l'abbiamo chiamata e noi noi abbiamo seguito il nome che c'era dentro lo scrigno perdita perdita? leonte prese lo scrigno e aprì dentro c'era una collana preziosa che solo i nobili i principi e le principesse potevano avere e un piccolo pezzo di carta con su scritto Costei si chiama perdita ed è figlia di re questo documento attesta le sue nobili origini così come questi gioielli e queste monete fino a quando non sarà abbastanza grande tenete tenete custodito questo scrigno leonte si inginocchiò si inginocchiò davanti a perdita e la guardò con aria piena di dolore e di gioia io io ti avevo uccisa io ti ho condannato a morte io ho ucciso tua madre e tuo fratello il dio mi ha pulito il dio Apollo e tu sei tornata sei tornata e io mi inginocchio a te e ti chiedo ti chiedo ti chiedo di perdonarmi ti chiedo di avere pietà di me ti prego ti prego perdonami perdita lo guardò con occhi stupiti e poi disse io non vi conosco come padre ma solo come re se voi mi dimostrirete l'affetto di un padre allora vi perdonerò da qualsiasi cosa vi vorrò vi amerò e vi vorrò bene ve lo prometto e proprio in quel momento in quello stesso momento le porte del palazzo si spalancarono e una figura entrò bianca avvolta dalla luce e il volto della regina apparve ai presenti come un miraggio e leonte che fino a quel momento era rimasto in ginocchio quasi svenne e cadde con la faccia a terra e disse no no ti prego ti prego fantasma io non farò mai del male a nostra figlia so che tu sei lo spirito di orione ti prego perdonami perdonami io non non farò mai più del male a nessuno io ho sbagliato vi prego pietà pietà ma lo spirito lo sollevò lo spirito aveva carne e calore e aveva il volto della regina che lo guardò e gli disse non sono morta in quell'istante in cui tu mi hai creduto morta io in realtà sono solo svenuta quando sono stata portata via avevo già ripreso i sensi nonostante il mio cuore fosse spezzato sono rimasta nascosta per tutto questo tempo e ho aspettato prima di tornare ho aspettato le parole del dio Apollo ho aspettato che tu finalmente ritrovassi la tua figlia e ora sono tornata per dirti che hai portato tanto dolore tanta sofferenza ma ti posso perdonare se tu prometti che mai da questo momento in avanti oserai lasciare la gelosia di prendere di nuovo possesso della tua anima giuralo e Leonte giurò e a quel punto il matrimonio si fece per unire il regno della Sicilia e della Bohemia e perdita non più persa e Florenzo si sposarono e Leonte e Polissene di nuovo tornarono amici e l'inverno non fu più una stagione fredda e rigida non fu più Grazie.